Il problema su questo servizio, continuiamo a parlare di riforme, perché il tema delle riforme non è caro solo al Parlamento, anche in Consiglio regionale se ne è parlato in una seduta appositamente dedicata. Il Consiglio regionale della Lombardia è a lavoro sul tema della riforma del riordino delle autonomie. Secondo il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Stefano Carugo, del nuovo centrodestra, il documento discusso in Consiglio deve fissare pochi principi ma forti e chiari. E vi va a dire che non può essere messa in discussione l'autonomia e l'esistenza di un livello intermedio come le regioni. Questo testo costituisce la base per un successivo lavoro di approfondimento che ha portato ad elaborare una proposta di legge al Parlamento. Ma che messaggio lancia questo documento? Nasce questo messaggio forte, cioè che noi le riforme le vogliamo fare per il bene degli italiani e non per ottenere qualche titolo sui giornali. Quindi il tema non è svuotare le province ma il tema è avere organi di area vasta che diano delle risposte vere e che costino di meno rispetto a quelli che sono i costi attuali. In regione dibattito sulle riforme, qual è la vostra posizione? Voterete il documento? No, noi non parteciperemo al voto perché c'è esattato un dibattito 15 giorni fa in cui abbiamo ribadito le nostre posizioni. Posizioni che però oggi vengono in qualche maniera radicalizzate da parte di una maggioranza che intende esclusivamente mettersi di traverso rispetto a quella che è la posizione nazionale di un Renzi che coraggiosamente vuole percorrere la strada delle riforme. Qui si torna a parlare solo di macro regione, si torna a dire che non si vuole l'abolizione delle province, si torna a parlare anche del 75%. Francamente la campagna elettorale di Maroni pensavamo fosse alle spalle, così non è e quindi non parteciperemo al voto. Per noi è importante il dibattito, il problema è che il dibattito va fatto a Roma e non qua, da l'impressione di essere uno spot elettorale, uno spot per far vedere che si è presenti e forse bisognerebbe far vedere e far capire l'importanza dell'ente regione per le azioni concrete che fanno all'interesse dei cittadini e non perché si discute dell'importanza nella riorganizzazione istituzionale. No, operazioni ideologiche come quella di Maroni che si richiama ogni piesso spinto, la macro regione istituzionale, 75% delle risorse. Insomma la campagna elettorale è finita, adesso dobbiamo fare cose concrete, la sfida di Renzi va accettata e non bisogna fare come Calderoli ieri che quando Renzi ha detto è l'ultima volta che un Presidente del Consiglio si deve presentare per chiedere la fiducia al Senato, mi ha risposto col gesto dell'ombrello. Ecco, io penso che quella è la Lega conservatrice di cui non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di partiti responsabili che riformano il Paese.